Se hai deciso di venire in Sardegna, io sono là perché, sai, no, poi Sardegna, anzi, insomma la lintana, ricordo. Con l'opzione Infostrada Tempo Zero, pagando solo 95.000 lire al mese, fai tutte le urbane, le interurbane che vuoi, per tutto il tempo che vuoi. Tutto il grigio sono la peggiglia, che cosa è una cosa che può fare, alto, con i baffi, che facciamo? Oggi la spuma e domani la barba?